Il tavolo crossover dell'architetto Massimo Castagna combina materiali di diversa natura. La base architettonica in vetro di forte spessore costituisce la parte essenziale di questo tavolo. I dettagli in metallo danno forma al tavolo donando il carattere e originalità. La base architettonica in vetro di forte spessore costituisce la parte essenziale di diversa natura.